Fai la cosa giusta prima che sia troppo tardi. Il protagonista di questo videogioco è un bullo, che viene guidato da Benedetto, il quale ha creato per lui diverse stanze che trattano di alcune tipologie di bullismo. Arrivati nella prima stanza ci viene posto un quesito di storia e, rispondendo correttamente, arriviamo davanti a Napoleone, il quale ci spiega che anche le persone di bassa statura possono compiere grandi imprese. Nella seconda stanza ci viene chiesto di completare un labirinto. All'interno di esso troviamo delle casse contenenti dei documenti che spiegano l'ideale di bellezza femminile nel passato e nel presente. Alla fine troviamo un testo, il quale ci ricorda che la bellezza è una concezione del tutto soggettiva. Successivamente si arriva nella terza stanza, in cui bisogna completare un percorso con salti sempre più difficili. Il salto finale risulta impossibile. Cerchiamo quindi in una stanza la quale ci presenta una riflessione sulla tematica dell'omosessualità. Nella quarta stanza abbiamo deciso di usare una semplice metafora attraverso l'uso di alcune pecore per spiegare il problema del razzismo. Infatti queste ultime non si descrivono tra loro in base al colore. Giungendo nella stanza finale troviamo dei cartelli con dati statistici e probabili e o inaspettate conseguenze che fanno sicuramente riflettere. Con questa stanza la mappa è terminata. Speriamo vi abbia insegnato qualcosa di nuovo. Speriamo vi abbia insegnato qualcosa di nuovo.